Valorizzare e riqualificare i beni di proprietà del Comune al fine di rendere realmente remunerativa la vendita ai privati. È la proposta dei consiglieri comunali di Forza Italia Valerio Longo e Gerardo Zaccaria. Vista la situazione finanziaria dell'ente affermano la proposta è più che mai di stretta attualità. Che senso ha continuare ad avere beni immobili che stanno cadendo letteralmente a pezzi e non avere le risorse pubbliche per renderli fruibili. Per sperare di venderli e fare cassa occorre valorizzare e riqualificare per migliorare e consentire al privato di rendere produttivo l'investimento catturandone l'interesse. Di qui la necessità di verificare lo stato di attuazione delle convenzioni urbanistiche per il recupero delle aree in cessione e la loro valorizzazione al fine di riportarle in elenco per le alienazioni.